Sindaco Florindi, la scure del governo si abbatte sui piccoli comuni per Città Sant'Angelo. È previsto quest'anno un taglio di un milione di euro. Sarete costretti a tagliare sul sociale, ma non solo probabilmente? Innanzitutto i tagli ormai si perpetrano da più anni. Quest'anno certo abbiamo un taglio enorme di quasi un milione di euro. Infatti non riusciamo a far quadrare il bilancio che dovremmo approvare entro il 30 maggio dove ci mancano addirittura 2 milioni di euro. Certo dovremmo fare economia, dovremmo fare sacrifici. Certo è un'altra cosa importante e fondamentale che non faremo tagli sul sociale. Questo cercheremo di non farlo, taglieremo in altre parti ma non possiamo fare tagli sul sociale. Quindi dove andrete a cercare di ridurre le spese e comunque di risparmiare? Nella spesa corrente che già è all'osso perché noi a Città San D'Angelo i pubblici amministratori non prendono rimborsi, non prendono nessun tipo di somme extra tranne quello che è previsto dalla legge e poi vedremo un buon attimino di andare proprio a tagliare dove c'è il superfluo. Andare avanti sindaco è sempre più difficile? Andare avanti è sempre più difficile perché ci si aggiunge anche a questa situazione di carenza dell'amministrazione comunale è anche l'evasione indotta perché purtroppo le famiglie che sono troppo cariche di pressione fiscale non ce la fanno a pagare e quindi non riescono a far fronte agli impegni e l'amministrazione comunale si trova in difficoltà perché nelle casse non trova i soldi. Taglierete anche per quanto concerne le manifestazioni, manifestazioni estive e quegli eventi diciamo che hanno caratterizzato l'estate di Città San D'Angelo? Noi abbiamo come fondi pubblici abbiamo sempre tagliato, non abbiamo più dato contributi a nessun tipo di manifestazione che si faceva in una città San D'Angelo, abbiamo fatto un bando pubblico, un regolamento approvato in Consiglio Comunale che prevede la buona volontà da parte degli sponsor privati per poter far sì che anche quest'anno il cartellone delle manifestazioni estive sia garantito.